Il team di consultazione della Film Commission fino ad ora si è confrontato con i destinatari attraverso il web. L'incontro ufficiale, il faccia a faccia con i protagonisti, operatori del cinema, registi, attori, oggi nel primo forum nella sala in guscio della regione Basilicata. L'auspicio, ha detto il presidente De Filippo, che possa nascere già ad inizio 2011. Il capo del gabinetto del presidente, Raffaele Rinaldi, a cui la Giunta ha affidato il compito di coordinamento del team di consultazione, composto da quattro esperti del settore, ha riepilogato i passaggi e la natura giuridica della Film Commission, ricordando come si è arrivati a concepirla come un'unità interdipartimentale presso l'ufficio di presidenza e ricordando anche i compiti del team di consultazione, che dovrà spingere affinché l'organismo possa diventare punto di riferimento nella promozione dell'industria cinematografica della Basilicata. La proposta emersa dal dibattito, peraltro largamente condivisa, è quella che per garantire autonomia e indipendenza alla Film Commission, la formula giuridica possa essere quella della fondazione. Fondazione che possa avvalersi dei contributi dei dipartimenti regionali, ma solo attraverso un interlocutore, l'unità interdipartimentale presso la presidenza della Giunta.